Ben arrivati, buonasera a tutti, grazie di essere qui per questa chiacchierata che ci porta dentro quello che succederà sabato e domenica, quello che sta in realtà già accadendo in diversi paesi d'Europa, come sapete si sta già votando, grazie al Circolo per questa opportunità, questa è una serata che chiude una piccola rassegna che abbiamo chiamato Sguardi sull'Europa di avvicinamento alle elezioni europee e in questa parte conclusiva come Utrend, stasera sono con me alcuni analisti, alcuni colleghi del nostro team di lavoro, proveremo a capire che cosa aspettarci, la posta in gioco, gli scenari, insomma sarà una sorta di piccola guida che speriamo possa aiutarvi a arrivare ancora più consapevoli al voto di sabato e domenica. Intanto presento chi è qui con me sul palco stasera, cominciando da Valentina Porta che fa parte del team di Utrend da qualche tempo e sta lavorando come tutti gli altri colleghi indefessamente in vista dell'appuntamento elettorale, Ruben Bianco che con noi da tempo diciamo con salti e interruzioni ma da qualche tempo e si occupa della parte digitale nello specifico quindi vi racconterà alcune iniziative che abbiamo sviluppato sul digitale per accompagnarci al voto e Alessio Vernetti è nostro analista ormai da, anzi da un po' prima delle scorse europee mi pare, era arrivato nel gruppo di lavoro poco prima delle scorse europee e quindi insomma è un veterano di appuntamenti elettorali europei ormai. Dunque che succede? Questa è un po' la domanda a cui cerchiamo di rispondere stasera. Cominciando diciamo da, il giroslide temo che non reagisca, però cominciando da un elemento di scenario Valentina molto immediato, istintivo nel suo racconto cioè non siamo soltanto noi votare e si sta già votando in alcuni paesi. Vediamo tra un attimo tra l'altro che in alcuni dei paesi che stanno già votando c'è una partecipazione più alta che nelle elezioni passate quindi magari quel probabile calo di affluenza di cui parleremo sull'Italia sarà qualcosa che non riguarda tutti i paesi. Però in Italia quando si vota? Perché c'è un calendario elettorale un po' atipico, giusto? Sì esatto perché noi andremo alle urne sabato e domenica partendo con il voto alle 15 quindi le urne appunto apriranno alle 15, chiuderanno alle 23 e poi la giornata successiva invece è una giornata piena perché si potrà votare dalle 7 fino alle 23. 23 ora in cui inizierà anche lo spoglio, il momento clou. O meglio una parte dello spoglio perché noi come piemontesi siamo coinvolti anche dalle elezioni regionali come sapete lo spoglio domenica alle 23 sarà solo quello delle europee poi lunedì alle 14 ci sarà lo spoglio prima delle elezioni regionali e poi delle elezioni comunali che in Piemonte tra l'altro sono tante, quasi due terzi dei comuni piemontesi vanno a votare anche per il sindaco. Tanto Valentina è atipico votare di sabato e di domenica, qualcuno potrebbe chiedersi ma perché non votiamo domenica e lunedì come è stato per esempio in altre tornate elettorali recenti? Perché c'è una consuetudine europea che ci dice bisogna finire la domenica e quindi da qui la scelta del governo di aggiungere alla domenica un pezzo del sabato. Secondo voi è la prima volta che si vota di sabato? O avete ricordi di voti di sabato? In realtà qualche volta è successo, qualche volta è successo, 2009 credo e 2004 all'Europa si votò anche il sabato pomeriggio, però è evidente strano. Per programmare le vostre eventuali gite, anche se mi pare che le previsioni diano pioggia domenica, questo è un po' l'appuntamento. Valentina, perché cosa si vota? Da un lato noi voteremo per le elezioni europee in tutta Italia, le elezioni europee che sono un'elezione nazionale, l'abbiamo detto, ma non tutti gli italiani avranno la stessa scheda, ci saranno cinque schede diverse. Esatto, sì, perché il sistema, la legge elettorale per le elezioni europee ha cinque circoscrizioni, non ne ha solamente una e quindi non solo sono presenti diversi candidati, ma anche diversi partiti, perché non tutti i partiti sono presenti in tutte le circoscrizioni. E questo ci pone anche un tema che è quella della soglia di sbarramento nazionale, che in queste elezioni è prevista ed è del 4% dei voti nazionali. Questo è un dato che alcuni dei presenti hanno particolarmente a cuore, non dirò chi, ma insomma alcuni tre presenti hanno particolarmente a cuore, perché sarà una delle cose che tutti guarderemo domenica sera, chi ha superato lo sbarramento del 4%. Cosa significa sbarramento? Che se ottieni meno del 4% dei voti a livello nazionale non ottieni seggi? No esatto, ma soprattutto non sei neanche considerato, quindi il voto per un partito che non supera la soglia di sbarramento è fra molte virgolette buttato. Fra molte virgolette ovviamente. Quello che intendi forse esplicitare è che al di sotto del 4% non si ottengono seggi, quindi i seggi vengono divisi solo tra i partiti che superano il 4%. Non importa ottenere il 4% in alcune regioni, in alcune circoscrizioni, conta solo il dato nazionale. 4% che sembra poco, uno dice 4% è un partito piccolo, invece pensate che con un'affluenza bassa, quale quella che ci aspettiamo, 4% vuol dire un milione circa di voti, cioè un milione di persone che scelgono il partito e fanno la famosa X sul simbolo del partito, che non è proprio una cosa trascurabile quando ragioni in termini assoluti. Queste sono le 5 circoscrizioni. Siete tutti residenti in Piemonte? Mi immagino la maggioranza sì. Chi è residente, come vedete, in Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Oliguria, voterà per la circoscrizione Nord-Ovest. Quelle sono le altre circoscrizioni. Nord-Ovest è la più popolosa, quindi anche quella che esprime più seggi. Diciamo che però, al di là di alcune piccole differenze, ad esempio l'ordine dei partiti sulla scheda sarà diverso, perché il sorteggio è indipendente per ogni circoscrizione, però al di là di qualche piccola differenza, sostanzialmente la grande differenza è che i candidati non sono gli stessi da circoscrizione a circoscrizione. Con alcune eccezioni, Valentina, perché ci sono candidati anche molto noti che sono presenti in più di una circoscrizione. Ci fai qualche nome? Giorgio Meloni. Giorgio Meloni. Matteo Renzi. In tutta Italia, Renzi è in tutta Italia tranne il Nord-Est. Il Nord-Est però è candidata, ad esempio, Emma Bonino, perché c'è qui anche questo elemento che è molto interessante, che sono i leader candidati, una peculiarità che abbiamo visto essere principalmente italiana. Analogamente ci sono anche altre candidature, come quella, ad esempio, del generale Vannacci, che sono delle candidature di posizione più che di rappresentanza, che anche quelle sono presenti in più circoscrizioni. Vannacci è presente in tutte le circoscrizioni, quindi insomma questo lo anticipiamo perché ciascuno di noi potrà scegliere tra un elenco di candidati per ciascuna lista, dopo vedremo uno strumento che abbiamo messo a punto che vi aiuta anche a sapere chi sono i candidati di questa circoscrizione o se qualcuno abita in altre parti d'Italia delle altre circoscrizioni. Ultima cosa su questo, Valentina, ti chiedo come si vota. Abbiamo tra l'altro un facsimile, eccolo qui. Questa assomiglia alla scheda che noi riceveremo sabato o domenica. Ci sono i simboli dei partiti e poi ci sono tre righe di fianco al simbolo. A che cosa servono queste righe di fianco ai simboli? Proprio per esprimere le preferenze, quindi indicare quale candidato appunto dare la nostra preferenza e la preferenza viene conteggiata per stabilire poi chi occuperà il seggio che il partito ha guadagnato. Quindi questo è un elemento molto importante perché significa che c'è anche un elemento di competizione interna al partito. Certo, cosa interessante delle elezioni con preferenza è questa, se ci pensiamo non è solo PD contro Fratelli d'Italia oppure Stati Uniti d'Europa che compete con azione, eccetera. All'interno di ogni lista i candidati puntano a prendere un voto in più dei compagni di partito, quindi c'è questo meccanismo di competizione interna. Come si vota? È molto semplice, si barra il simbolo del partito scelto, non farò esempi perché altrimenti poi insomma già non alimentiamo, si barra un simbolo, il simbolo che rappresenta il partito che avete scelto e di fianco si scrivono uno o più nomi dei candidati di quella lista. Se si scrivono due nomi o tre nomi bisogna fare attenzione? Al genere, quindi almeno uno dei tre, se si ne sceglie tre, deve essere del genere diverso. Quindi due uomini e una donna o due donne e un uomo? Due donne e un uomo, un uomo e una donna, c'è questo correttivo. Diciamo questo Valentina, anche se si esprimono solo due preferenze devono essere di genere diverso, quindi non possiamo votare due uomini o due donne e basta, altrimenti la seconda preferenza viene annullata. Il voto è valido, la prima preferenza rimane valida ma la seconda preferenza viene annullata. Lo sapevate questo? Sì dai, insomma è stato abbastanza… insomma mai qualcuno l'ha scoperto stasera e ne saremmo felici. Allora abbiamo detto che si vota per le europee, questa appunto è la scheda, in Piemonte però si vota anche per le regionali, non l'avrei detto, non sembra proprio la cosa di cui parlano tutti per strada, però si vota anche per le regionali, questo è un po' il dettaglio della legge elettorale, molto sinteticamente si elegge il Presidente della Regione e il Consiglio regionale. Adesso entriamo nei dettagli se non scoraggiamo ulteriormente la convenza. Sì perché, tanto nessuno credo stia registrando quello che stiamo dicendo, la nuova legge elettorale regionale è ignota anche a molti dei candidati e forse anche agli autori, quindi non saremo noi a dirvi qualcosa che non sanno neanche quelli che l'hanno scritto. No, battuta a parte, elezioni regionali, questo è un facsimile di scheda delle regionali, considerate che se voi votate in Piemonte riceverete entrambe le schede, ovviamente, sarà verde la scheda regionali. Come si vota alle regionali? È un po' più complessa, no? Eh sì, è un po' più complessa perché è previsto il voto disgiunto, che significa che possiamo votare per un candidato o una candidata presidente, ma per un partito che non fa parte della sua coalizione. Quindi se per esempio crocettassimo un presidente o una candidata presidente o un candidato presidente, potremmo anche crocettare poi il simbolo del partito che magari è il suo opposto ideologicamente, il nostro voto sarebbe valido. Quindi andremmo a contribuire all'elezione di un candidato o una candidata in particolare, ma poi alla elezione di consiglieri regionali per un'altra lista. Facciamo un esempio doppio, così siamo un po' trasversali. Voto disgiunto vuol dire che se io voglio, non sono obbligato, ma posso per esempio votare uno dei simboli della coalizione di centro-sinistra, PD oppure Stati Uniti d'Europa, Verdi, Sinistra o una lista civica, e Cirio come presidente. In quel caso il mio voto al presidente va a Cirio, però nella parte proporzionale, nella parte del consiglio regionale, voto una lista di centro-sinistra. Oppure, così siamo equanimi, potrei votare una lista di centro-destra, ad esempio Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e come presidente Pente Nero, che è la candidata al centro-sinistra o Sara Di Sabato, che è la candidata del Movimento 5 Stelle. Non abbiamo citato tutti, tutti, tutti i candidati, ma insomma apprezzate lo sforzo. Non so se il minutaggio è esatto. Importante sulle regionali, ci sono anche qui le preferenze, quindi se volete potete di fianco al simbolo del partito indicare uno o due nomi. Anche qui in Piemonte è stata introdotta la norma sulla parità di genere, quindi anche in questo caso se decideste di indicare due preferenze, vorrebbero essere due preferenze di sesso opposto. Ed è stata introdotta nel 2023. Sì, è una delle ultime regioni, è stata una delle ultime regioni di Piemonte. Ultima cosa, ce l'abbiamo? No, allora la dico a voce. Ultima cosa, se siete ad esempio di Piossasco o come Alessio Vernetti di Chieri, hai ancora la residenza Chieri, sì, ok, avete anche le elezioni comunali, quindi riceverete una terza scheda con le elezioni del sindaco e del Consiglio Comunale. In Piemonte due terzi dei comuni hanno le elezioni comunali contestualmente alle europee e alle regionali e in termini di popolazione più del 40% dei piemontesi vive in un comune in cui si voterà anche per il sindaco, quindi insomma saranno tanti, non i torinesi ma i chieresi e molti altri a ricevere tre schede addirittura. Ottimo, in Italia, pensate che i comuni che voteranno alle amministrative sono 3.700, di cui 224 superiori, superiori vuol dire che hanno almeno 15.000 abitanti e ci sono tra l'altro anche comuni, città importanti che votano per il sindaco in questa tornata. In Piemonte sono per lo più comuni medio piccoli, spero di non fare… c'è anche qualche capoluogo come Verbania effettivamente, però se vedete a livello nazionale ci sono quasi 30 capoluoghi di provincia che votano per il sindaco, citiamo i tre capoluoghi di regione, Firenze, Bari e Perugia e anche Potenza, scusate. Anche Cagliari. Anche Cagliari, stanno crescendo di minuto in minuto, insomma se ne spunta qualcuno in più avvertitemi. Potenza e Cagliari. Cagliari, perché mi hai sfuggito a Cagliari? Perché solitamente la Sardegna e la Sicilia votano sfasate, non votano insieme al resto delle regioni. Quest'anno credo per la prima volta o comunque a differenza di cinque anni fa votano contestualmente, quindi vedete quante città rinnoveranno il loro sindaco. A questo punto entriamo un po' nel cuore dello scenario principale, quello di cui parleremo domenica sera, che poi occuperà le cronache, le analisi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e poi speriamo anche basta. A un certo punto fateci riposare un attimo. Cioè le elezioni europee e soprattutto i rapporti di forza tra i partiti, no? Voi sapete che non si può parlare di sondaggi sui mezzi di informazione. C'è una legge, anche qui nessuno si offenderà o insomma avrebbero idee diverse, c'è una legge un po' superata, potremmo dire, che prevede che nelle ultime due settimane prima delle elezioni non si possano pubblicare i risultati di sondaggi. Questo non significa che non si possano fare sondaggi, perché ovviamente sarebbe eccessivo vietare anche di svolgere sondaggi. Quindi non si possono pubblicare sui mezzi di informazione ma si possono fare. Perché dico che è un po' superata forse questa legge? Perché, come potete ben sapere alcuni di voi, diciamo ne sono testimoni diretti, si crea un doppio binario tra il cittadino comune che non ha accesso a un'informazione che tutto il resto dell'anno è consentita e un circuito più o meno piccolo di addetti ai lavori che invece hanno accesso ai sondaggi perché li fanno, perché li arrivano, gli vengono detti, perché li commissionano, li acquistano. Aggiungo l'altra cosa che trovo un po' singolare è che poi questo meccanismo fa sì che si generino sondaggi fasulli, cioè che girino notizie su pseudo sondaggi che in realtà non esistono, dati manipolati, slide farlocche e diciamo altro che report, volendo fare un riferimento così letterario. Quindi questo però è lo stato dell'arte, quindi noi non possiamo parlare diciamo di sondaggi successivi a quelli già pubblicati due settimane fa, che erano questi, che erano questi, questa è la nostra supermedia, voi sapete no Utrend tra le tante cose fa anche una, ah no questo è il nostro sondaggio scusate, questo è il nostro ultimo sondaggio, quindi non è la media di tutti gli istituti ma è il sondaggio svolto da noi per Sky pubblicato il 24 maggio, questa era la fotografia alla vigilia del blackout dei sondaggi confrontata con il risultato di cinque anni fa. Che cosa vediamo, chiamo in causa Alessio Vernetti già su questo, che cosa vediamo? Che alcuni partiti sembravano avere un probabile risultato simile a quello di cinque anni fa, tipo PD per fare un nome, o anche il 5 Stelle. Sì, di fatto quello che vediamo è che la lega di Matteo Salvini è calata da circa il 35%, adesso sarebbe intorno al 10% mentre viceversa Fratelli d'Italia è cresciuta nelle intenzioni di voto di una misura quasi simile ma ovviamente di segno opposto. Chiaramente cinque anni fa non c'erano gli stessi partiti che ci sono oggi, nel senso che vedete che per le liste di Alleanza Verde e Sinistra, Stati Uniti d'Europa e Azione non c'è un corrispondente nel 2019 perché, non so se lo ricorderete, però nel 2019 queste liste non c'erano e quindi sarà anche interessante vedere come andranno, visto che di fatto è la loro prima volta. Sì, ad esempio c'era più Europa ma non c'era Stati Uniti d'Europa. Avevano ovviamente una conformazione diversa, Verdi e Sinistra correvano separati. Calenda era nel PD. Calenda era nel PD, aveva una parte del simbolo del PD affittata. Ci sono state tre o quattro settimane in cui Calenda è stato anche nel PD, ricorderete. Quindi l'offerta politica non era esattamente uguale, però è interessante vedere come la grande differenza rispetto a cinque anni fa sia il crollo probabile della Lega e l'esplosione rispetto a cinque anni fa di Fratelli d'Italia. È come se si fossero sostituiti l'uno all'altro. Sì, infatti non abbiamo qua forse lo storico della nostra supermedia, però se vediamo il trend storico della nostra supermedia dei sondaggi, vediamo che dal 2019 a oggi il calo della Lega va proprio parallelo all'aumento di Fratelli d'Italia. Sì, quasi speculare. Una linea scende e l'altra sale. Questo appunto è il risultato il nostro ultimo sondaggio prima del blackout. Vedremo se cambierà qualcosa, perché un altro dei problemi del blackout dei sondaggi è che noi parliamo di dati di dieci giorni fa. Molti osservatori, cittadini, lettori alla fine si ricordano o comunque giustamente ti inchiodano al dato con cui sei uscito due settimane prima. In un contesto fluido come quello attuale tante persone cambiano idea in due settimane, tante persone decidono se e come votare nelle ultime due settimane. Se io chiedessi a voi che siete qui stasera, mi aspetto che più di qualcuno mi direbbe io sto decidendo adesso oppure non ho ancora deciso o se ho deciso magari ho deciso negli ultimi giorni. Tutti questi in un sondaggio di due settimane fa ovviamente, e anche questo dovremmo ricordarlo ad alcune trasmissioni televisive, tutti questi non possono essere in misura. Anche se il sondaggio fosse perfetto non potremmo fisicamente farci dare una risposta attendibile perché le persone, notizia, cambiano idea, le persone decidono spesso all'ultimo. Bene, questo sui sondaggi. Un passaggio importante anche questo, cioè abbiamo detto le percentuali, però quanti deputati, quanti eurodeputati eleggeranno i vari partiti? Come vedete bisogna essere cauti nelle stime, perché alla luce dello sbarramento, Valentina, ci sono una serie di partiti che magari sono poco sopra allo sbarramento o poco sotto e a seconda che superino o non superano il 4% hanno un effetto su tutti i seggi. Ci spieghi questo meccanismo apparentemente complicato? Sì, come dicevamo prima, tutti i partiti che non superano la soglia di sbarramento, quindi non arrivano a ottenere almeno il 4% dei voti, non sono considerati nel computo dei seggi. Cosa significa? Che di fatto i seggi che sarebbero toccati a loro se avessero superato la soglia del 4% vengono, tra virgolette di nuovo, ridistribuiti su tutti gli altri. Infatti come potete vedere la nostra forchetta sul numero di seggi che potenzialmente possono ottenere Fratelli d'Italia e Partito Democratico è notevolmente più grande degli altri, proprio perché qualora tutti e tre i partiti che sono borderline con la soglia di sbarramento passassero, chiaramente sottraggono seggi a tutti quei partiti che hanno ottenuto le percentuali più alte, perché vengono ripartiti prima a livello nazionale e poi come forse vedremo nelle circoscrizioni. Quindi come vedete c'è una certa incertezza, però è una fotografia che è abbastanza utile per farci idea di quanti rappresentanti di ogni partito probabilmente invieremo a Bruxelles e a Strasburgo. Anche qui ci sono due dati che sono eclatanti se guardiamo le ultime due colonne. Fratelli d'Italia in media, sulla base del sondaggio che abbiamo visto, potrebbe eleggere circa 23 deputati europei, ne aveva 6 eletti nel 2019, quindi quadruplicherebbero quasi. Al contrario la Lega aveva eletto 29 eurodeputati, oggi ne eleggerebbe circa 8, poi magari potrebbero essere 9, potrebbero essere 7, ma insomma l'idea è questa. Un flash finale, quali sono i punti di domanda, i grandi interrogativi di queste elezioni? Essenzialmente sono 3 o 4 direi. Il primo è quale sarà il divario tra Fratelli d'Italia e PD. In questo sondaggio c'era un divario piuttosto ampio, circa 7 punti, che sono gli stessi che c'erano le politiche, però uno potrebbe ipotizzare che magari questo divario sia un po' più ridotto e chiaramente se fossero 3 i punti di scarto la storia sarebbe un po' diversa, la lettura politica del risultato sarebbe diversa. Non ci sarebbero enormi implicazioni sul numero di eletti, per capirci, però 25 a 22, per dire un dato puramente ipotetico, non è politicamente come 27 a 20. Seconda cosa interessante, lo scarto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Noi qui avevamo circa 5 punti, poco meno di 5 punti di scarto, anche qui è chiaro che se lo scarto fosse di 8 punti sarebbe un rafforzamento del PD e un indebolimento di Conte del Movimento 5 Stelle come lettura politica. Terzo dato da guardare comunque in grande attenzione, il derby, il duello a destra, nel centro-destra tra Lega e Forza Italia. Vedete che noi ce l'avevamo molto vicini, con la Lega leggermente davanti, un mesetto fa avevamo invece Forza Italia davanti alla Lega, c'è stato un certo dibattito tra gli addetti ai lavori sul fatto che Forza Italia avrebbe probabilmente superato la Lega, forse si è un po' arrestata questa tendenza nelle ultime settimane, effetto vannacci, punto di domanda, forse anche sì, perché diciamo la Lega ha riconquistato una certa visibilità sociale e mediatica. Vedremo come andrà a finire, però per gli equilibri dentro al governo un po' conta. Aggiungo, ci saranno anche importanti nomine in società pubbliche partecipate dal governo dopo le europee, se la carriera di qualcuno dipenderà da chi finirà avanti. Da mezzo punto percentuale. Vedete che il vostro voto conti. Ultima cosa da vedere e da osservare con interesse, la battaglia per il 4%, in questo sondaggio noi avevamo due partiti sopra il 4%, tra quelli che vedete vicini, verde-sinistra e Stati Uniti d'Europa, e invece azione di calenda era poco sotto il 4%. Per questi partiti ovviamente la battaglia decisiva è proprio quella, ottenere il 4% e riuscire a eleggere i loro eurodeputati. Anche come segnale politico è chiaro che è un impatto, questo 4%, se ci sarà o se non ci sarà, lo darà. Qui abbiamo un bellissimo scenario per i più nostalgici tra voi, con il partito più votato alle europee, dalle prime europee che furono nel 79, tra l'altro qualcuno che votava nel 79 so che in sala c'è, non siate timidi, in alcuni casi lo so diciamo con certezza, per ragioni familiari, anzi che non fosse il primo voto per alcuni di voi. Bene, nel 79, riscoperto qualche giorno fa perché l'avevo rimosso, si votò alle europee a una settimana di distanza dalle politiche, quindi chi faceva il nostro lavoro ha avuto un mese ancora più impegnativo. Però battuta parte, vedete, questo è lo scenario di tutte le varie elezioni, nelle ultime la Lega è arrivata davanti nel centro nord e il Movimento 5 Stelle al sud e alle isole, chissà quali saranno i simboli con cui aggiorneremo questo albo d'oro, sembra come l'albo d'oro dei vincitori della serie A con tutti gli stemmini. Meno conteso. Non fare battute, non fare battute. Affluenza, affluenza. Credo sia un grande interrogativo di tanti di voi, no? Ma le persone andranno a votare? Ci saranno dei posti in cui si voterà di più, in cui si voterà di meno? Alessio, qui noi vediamo una mappa che hai realizzato tu, credo ieri o nei giorni scorsi, che ci mostra l'affluenza di cinque anni fa. Più è scura la provincia, più persone sono andate a votare alle europee di cinque anni fa. Più è chiara, meno persone sono andate a votare. Che cosa si vede in questa mappa? Lo vediamo molto chiaramente. Il centro nord ha un'affluenza, queste sono le europee di 2019, molto più alta rispetto al sud, soprattutto alle isole. Vedete che Sicilia e Sardegna sono praticamente bianche. Perché l'affluenza è importante? Perché chiaramente, ovviamente, incide poi anche sul risultato elettorale. Ricordiamo che i seggi dell'Europarlamento verranno distribuiti tra i voti validi, per cui ovviamente questo ci mostra una volta di più l'importanza di... Come no? Assolutamente aggiungo solo un elemento. È chiaro che se al sud e nelle isole non vanno a votare o vanno a votare come è stato cinque anni fa, molto meno che al centro nord, è un problema per i partiti che hanno molto del loro elettorato al sud, no? Sì, pensiamo al Movimento 5 Stelle, per esempio, che è un vaccino tradizionalmente meridionale. Anche forse Italia, no? Un elettorato più spostato al sud. Quindi sarà anche interessante vedere quanto questi partiti manterranno il loro radicamento meridionale o si accentuerà oppure diminuirà, per esempio. Una cosa importante a livello generale, cinque anni fa andò a votare circa il 55% degli aventi diritto alle elezioni europee. Noi stimiamo, non è semplicissimo stimare l'affluenza, però stimiamo che quest'anno probabilmente ci attesteremo intorno al 50, 50-51. È più o meno la valutazione, ne vedevo anche di altri colleghi, no? Che stimano circa un 50% di affluenza. Vuol dire che un avente diritto su due voterà e l'altro no. Sarebbe evidentemente il dato più basso della storia delle elezioni europee. È interessante però, Alessio, ti coinvolgo anche su questo, considerare che in Italia, vedete quella linea verde che scende, no? In Italia c'è un calo dell'affluenza alle europee piuttosto consolidato, ormai da una ventina d'anni, anche di più se andiamo indietro, però non è così in tutta Europa. Anzi, in diversi altri paesi l'affluenza è salita nelle ultime elezioni rispetto a quelle prima. Sì, anzi, quello che è interessante è che in Italia il confronto è con gli altri grandi paesi UE, quindi, insomma, Francia, Germania, Spagna. In Italia partivamo molto alti, come vediamo la barra verde è la più alta di tutti, però, insomma, il calo è stato costante. Poi, come diceva all'inizio, già i primi dati, insomma, da altri paesi mostrano che in realtà sembra che ci sia una crescita, un'affluenza che regge. Vedremo come andrà questa volta, insomma. Per esempio i paesi bassi, che hanno votato oggi, se non sbaglio, hanno un'affluenza molto bassa in assoluto, ma in crescita rispetto a cinque anni fa. Quindi magari vedremo la linea dell'Italia che scende, ma non è detto che a livello europeo la partecipazione fletta allo stesso modo. E qui, vabbè, è quello che dicevamo prima, no? Cioè, è in calo storicamente in tutte le circoscrizioni, però al sud e nelle isole vedete che, insomma, la forbice si allarga, no? Al sud e nelle isole la partecipazione nelle ultime tornate europee è scesa davvero davvero tanto. Qualche parola, Alessio, sullo scenario europeo? Perché, insomma, noi abbiamo parlato fin qui del voto italiano. Tutti noi saremmo chiamati a votare per eleggere i 76 eurodeputati italiani, però l'Europarlamento non ha 76 seggi. Ne ha? Ne ha, ne avrà 720. Adesso ne ha 705, effettivamente. Questo ci arriviamo poi dopo. Questo tanto che lo sia al Consiglio? Sì, sì, sì. No, stiamo pure su questa. Molto rapidamente noi non dobbiamo pensare che l'Unione Europea funzioni dal punto di vista del governo, del Parlamento come uno Stato, tra virgolette, normale, come il nostro. Cioè, non è una Repubblica parlamentare, non è una Repubblica presidenziale. Cosa intendo dire? Che il Presidente della Commissione europea, che possiamo considerare come l'organo più simile al governo, non viene, non ha una fiducia dal Parlamento, o meglio, ce l'ha, adesso spieghiamo un attimo bene. Però sono i capi di Stato e di Governo che propongono il Presidente della Commissione europea. Quindi a luglio Meloni, Macron, Scholz, Sanchez e, insomma, gli altri capi di Stato e di Governo si ritrovano a Bruxelles e decidono un nome da proporre per la Presidenza della Commissione europea. Tenendo conto del risultato. Ovviamente tengono conto del risultato delle elezioni per il Parlamento che ci saranno a breve, però il Consiglio europeo può proporre qualunque nome. Non so se vi ricordate nel 2019 Ursula von der Leyen non era la candidata del Partito Popolare europeo. Il candidato del Partito Popolare europeo era Manfred Weber. In seguito a discussioni in seno al Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, tenendo conto tra i vari equilibri che si devono creare, uscì fuori il nome di Ursula von der Leyen, che allora era la Ministra della difesa del governo Merkel. E quindi questo ci fa capire che intanto noi dobbiamo guardare il Consiglio europeo, chi lo compone e chi potranno andare a proporre come Presidente della Commissione. Ursula von der Leyen è questa volta effettivamente la candidata del Partito Popolare europeo. Potrebbe anche essere di nuovo lei, no? Quindi ovviamente è possibile. Per fare ordine, la prima mossa sarà del Consiglio, quindi dei capi di Stato e di Governo, degli Stati nazionali, non del Parlamento che eleggeremo. Però entrerà poi in gioco presto il Parlamento europeo, no? Il Parlamento europeo poi ovviamente deve approvare sia prima il o la Presidente della Commissione, sia poi la Commissione nel suo complesso alla fine dell'anno. Perché ogni governo di ogni Stato membro nominerà, proporrà un commissario che sarà sottoposto ad audizioni nel Parlamento europeo e poi appunto alla fine dell'anno ci sarà un nuovo voto per approvare in blocco tutta la Commissione. Quindi diciamo che il Parlamento che eleggeremo, 720 rappresentanti, no? Rappresentano tutti i paesi, tutti i popoli europei. Attenzione, ovviamente in ogni paese si vota con liste di quel paese, no? Così come noi votiamo sui candidati italiani, in Francia votano scegliendo tra candidati francesi, tendenzialmente. Non ci sono liste transnazionali, no? Questo, se vogliamo, è una delle contraddizioni un po' di questo modello. Cioè noi eleggiamo un Parlamento che però rappresenta fino a un certo punto il volere generale del popolo europeo e rappresenta invece un bel po' anche le sensibilità dei singoli paesi. Tant'è che, adesso ci arriviamo, quando si ritroveranno tutti gli eletti del Parlamento europeo si divideranno in gruppi politici ma conterà un pochettino anche l'appartenenza nazionale poi nei voti e questo è un grande, diciamo così, un grande irrisolto dell'architettura istituzionale europea che cerca di contemperare la rappresentatività democratica con però anche un elemento, come posso dire, di tutela degli interessi degli stati membri. E questo fosse anche per tutelare i paesi più piccoli, per esempio, che altrimenti rischierebbero di pesare poco. Arriviamo, Alessio, allo scenario, all'emiciclo del Parlamento europeo, questo potrebbe essere il Parlamento europeo da domenica. Allora sì, questa è una simulazione di Europelex, insomma su i 720 seggi del nuovo Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, come diceva Lorenzo, ha dei gruppi parlamentari, li vediamo da destra verso sinistra, vabbè a destra ci sono i non iscritti ma al di là di loro abbiamo Identità e Democrazia che è il gruppo della destra euroscettica a cui appartiene la Lega di Salvini, ma anche Marine Le Pen, per esempio. Per adesso, vediamo. Poi abbiamo ECR che è il partito europeo dei conservatori e riformisti presieduto da Giorgia Meloni. Ne fa parte anche per esempio Vox, il partito spagnolo. Sì, oppure diritto e giustizia, il partito polacco, poi abbiamo il partito popolare europeo a cui aderisce Forza Italia, la CDU tedesca, il partito popolare spagnolo. Diciamo che è il partito moderato di centrodestra, quello azzurro, no? Esatto, ed è il partito da cui provengono sia l'attuale presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sia l'attuale presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola. Renew Europe è un partito, insomma, è un gruppo liberale di centro, erede dell'allora Alde, che è un partito che fa capo di fatto a Macron, possiamo dire così. Sì, diciamo così. E diciamo in Italia, no? Azione, Stati Uniti d'Europa aderiscono a Renew Europe. Esattamente. Poi abbiamo il principale partito di centro-sinistra che è il Partito Socialista europeo, di cui fa parte appunto il Partito Democratico, la SPD tedesca, il Partito Socialista francese, il PSOE spagnolo. Qui si chiamano tutti i socialisti tranne il Partito Democratico. Infatti il nome effettivo del gruppo è Socialisti e Democratici. Qualche anno fa i più appassionati tra voi lo ricorderanno, il dibattito, si passò da gruppo socialista al gruppo dei socialisti e democratici. E fu, diciamo, una mossa anche di avvicinamento al nostro Partito Democratico, in un certo senso. E poi abbiamo il gruppo dei verdi, il gruppo della sinistra, di cui, insomma, nel 2019 l'Italia non elesse alcun europarlamentare di questi gruppi. Comunque appunto il Partito Verde ne fanno parte, insomma, i principali partiti verdi europei e, insomma, della sinistra partiti di minoranza vengono soprattutto da paesi nordici. Diciamo, diciamo adesso, una cosa. Questa è la fotografia del possibile nuovo Parlamento. Vedete la variazione rispetto agli uscenti. Ci sono chiaramente alcuni gruppi che crescono, gruppi di destra e altri che sono destinati a diminuire il proprio peso, soprattutto i liberali e i verdi. Quindi non approfondiamo troppo questo aspetto perché abbiamo già fatto due incontri in cui abbiamo sviscerato tutti gli equilibri europei. Tendenzialmente sarà un Parlamento più a destra rispetto all'attuale. Potrebbero esserci impatti su questioni come il Green Deal, quindi le politiche per il clima. Potrebbero esserci impatti sull'immigrazione. Insomma, su una serie di questioni potremmo vedere un Parlamento un pochettino più spostato a destra come baricentro politico. Questa è la situazione. Qui, vabbè, avete un po' il quadro europeo con la situazione nei sondaggi dei vari paesi europei. Come vedete l'Italia è uno dei paesi in cui il partito in testa nei sondaggi appartiene a un gruppo di destra, cioè il gruppo dei conservatori. Lo stesso si può dire della Francia, ma anche dell'Olanda. Al contrario, la maggioranza dei paesi europei ha come primo partito un partito del Partito Popolare Europeo, CDU, PP, eccetera. Maggioranza relativa, perché sono 12 su 27. A questo punto io direi che potremmo andare al segmento conclusivo della nostra chiacchierata, dopo di che ci sarà ovviamente spazio se avete qualche domanda o curiosità per rispondere, ma il segmento conclusivo sul quale coinvolgo Ruben Bianco, che ha seguito tutti gli strumenti che vedremo tra un attimo, si rifà una serie di strumenti che abbiamo sviluppato nei mesi scorsi per una serie di testate e che potrebbero aiutarvi in queste ultime ore, o se non vuoi aiutare i vostri amici e familiari, a chiarirsi le idee. Abbiamo sviluppato questi strumenti, ve li facciamo vedere, così se ritenete potete darci un'occhiata. Allora, partiamo da quello che vediamo a sinistra. Allora, sì, il primo strumento, quello a sinistra, che si chiama Atlante Europeo, che abbiamo sviluppato insieme a Quotidiano Nazionale, insomma partiamo un po' da lontano rispetto allo scenario puramente politico, però le elezioni europee sono anche un momento per riflettere sull'identità europea, per sentirci cittadini europei, per confrontarci con i cittadini degli altri stati europei e quindi insieme alle amici di Quotidiano Nazionale abbiamo sviluppato questo strumento che confronta un po' le abitudini, i modi di vivere, gli atteggiamenti, insomma cosa fanno i diversi cittadini europei? Come funziona? L'Atlante Europeo avrete una serie di domande, stile quiz, ci piacerebbe farlo vedere, ma credo ci sia qualche complessità tecnica o no? Possiamo provarci. No, no, facciamo stare. Ci sono una serie di domande, rispondete in base a come vi identificate maggiormente e vi viene restituito il paese europeo che vi assomiglia di più. Ad esempio mi viene chiesto, facci degli esempi, come ti sposti per andare a lavoro, l'importanza della religione nella tua vita, l'importanza della famiglia o del senso di identità, di appartenenza allo Stato, in base a una serie di parametri che sono raffrontabili con dati di sondaggio tra tutti i paesi europei, esce fuori quale è poi lo Stato. Il profilo del paese che vi assomiglia di più, quindi diciamo un elemento di gioco ma per conoscere meglio la società europea al di fuori dei nostri confini. Quanto conosci l'Europa? Invece è un quiz che anche qui mette insieme un elemento di gioco con anche una funzione divulgativa ed educativa. Sì, questo è un po' più sviluppato con il sole 24 ore che serve un po' ad arrivare preparati all'appuntamento di questo weekend. Potrebbe essere divertente farlo prima e dopo questo incontro per vedere se è stato utile in qualche modo, però sono una serie di domande un po' più divulgative, un po' come funziona l'Europa, come funzionano le istituzioni europee, quanti, per esempio tra le domande c'è quanti membri ha il Parlamento europeo o qual è la sua funzione rispetto agli altri organi. Una ventina di domande e poi la cosa interessante è che per ciascuna domanda scopriamo qual è la risposta corretta e quali non lo sono, quindi ha anche un valore divulgativo, quindi un meccanismo di gamification ma con una finalità di approfondimento e di condivisione delle conoscenze. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Il prossimo strumento... Questo è un po' più ludico. Esatto. Il nostro gioco, questo ce lo siamo fatti da sole o perché ci diverte, però lo usiamo anche internamente per sfidarci, è lo strumento per prevedere secondo noi come andranno queste elezioni europee. Ci sono un po' delle sfide interessanti di cui abbiamo parlato oggi, tra le domande c'è chi sarà il primo partito, se supererà il 30%, le sfide delle preferenze più interessanti, è un gioco. È un gioco, raccoglie tra virgolette dei pronostici, ovviamente verranno poi verificati gli effettivi i dati e quindi dopo le elezioni ciascuno dei partecipanti riceverà una sorta di punteggio quanto ha azzeccato le proprie previsioni. Faremo la classifica della community di Utrendra ed è anche utile però, al di là dell'aspetto più ludico, per vedere tra le domande quali sono effettivamente, noi le abbiamo viste però, è utile per tenersene d'occhio a casa, quali saranno le sfide più interessanti anche politicamente da tenere d'occhio nella lunga notte elettorale. E da ultimo uno strumento che sperimenteremo anche live tra poco, che è attivo in due versioni diverse su SkyTG24 e su Corriere, abbiamo fatto due versioni diverse con domande diverse, che è questo. Ed è un po' uno strumento che facciamo ormai da non so neanche quanti anni. Almeno dal 2018. Ecco, che proviamo a riproporre aggiornandolo ad ogni appuntamento elettorale, è un quiz che aiuta a identificare qual è il partito più vicino alle proprie idee, non è un quiz che ti dice chi votare, non devi per forza ascoltare quello che ti dice, però ti aiuta rispondendo a una serie di domande, o meglio registrando l'accordo con una serie di frasi che possono benissimo essere frasi che si sentono spesso durante la campagna elettorale, ti restituisce quali sono i partiti più vicino a te e poi ci piace arricchirlo con qualche informazione in più, quindi magari in questo caso su SkyTG24 ti restituisce la tua tribù di appartenenza. Possiamo vederlo all'opera direttamente, Ruben si sposta in regia per poterlo gestire. Abbiamo pensato di fare questo piccolo esperimento insieme vedendo all'opera questo strumento, perché? Perché in realtà può avere un valore informativo e divulgativo, naturalmente è uno strumento appunto pensato per essere accessibile a tutti, quindi proveremo, se siete d'accordo, a rispondere a queste poche domande e vedere che risultato esce. Decidiamo insieme una figura politica che più o meno conoscono tutti e proviamo a rispondere come secondo voi risponderebbe questa figura politica, così vediamo se funziona. È perché è proprio il generale Vannacci. Se esce davvero vuoi proporre Vannacci come caso di studio, per par condicio faremo un candidato diciamo euroscettico, è un candidato europeista. Quindi ipotizziamo di partire con Roberto Vannacci, un esponente della Lega, sul sito di Sky trovate questo strumento, dobbiamo rispondere come risponderebbe Vannacci. Allora, l'Unione Europea deve proibire l'uso di farine derivate dagli insetti, e la carne coltivata. Secondo voi cinque. Vannacci su questo ha le idee chiarissime. L'Italia deve schierarsi con forza al fianco di Israele nella guerra contro Hamas. Vedo un po' più di tre. Facciamo tre, dai. Il governo ha fatto bene a abolire il reddito di cittadinanza perché disincentivava il lavoro. Cinque. La Lega, sappiamo che è contro il reddito di cittadinanza. Se ingrandiamo un po', lo riesco a leggere anch'io. Grazie. Quella italiana è ancora oggi una società dominata dal patriarcato. Ce lo vedete Vannacci che dice questa cosa? Io non tanto. Uno. Sì, non si può andare sui numeri negativi, ma... Un politico inquisito per reati contro la pubblica amministrazione non può ricoprire cariche pubbliche. Beh, garantista, centrodestra. Eh, forse una via di mezzo, che dici? Due, tre? Due. Due? Facciamo una media, diciamo due, dai. Le associazioni anti-abortiste non dovrebbero poter operare nei consultori? Uno o due? Uno. Massimo due, proprio in un momento così. Forse uno o più che due. Che dite? Anche se non so se è un tema su cui si è espresso. E nell'interesse d'Italia ratificare il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, appena possibile. La Lega non è proprio entusiasta, eh? Uno? Che dici? Che dite? Vale? Pensatevi Vannacci in questo momento, eh? Non come rispondeste voi. So che, diciamo, non è proprio una situazione facilissima. Il super bonus, 110, è stato uno strumento efficace per creare lavoro e per la sostenibilità ambientale. La Lega non è tanto, che dite? Due. Diamo due. E come sapete è un tema più caro al Movimento 5 Stelle. L'Italia dovrebbe abbandonare l'euro e tornare alla lira. Se fossi Vannacci, quattro? Quattro o cinque, sì. Vai, facciamolo un po' più estremista. Un po' più moderato, quattro. Siamo Vannacci, eh? Adesso ancora per pochi secondi non temete. Mario Draghi è la persona giusta per guidare la Commissione Europea? Due. Forse due. Alla fine la Lega era nel governo Draghi. Uno. Zero. Uno. Dai, facciamo uno. Facciamolo bello spinto su questa. Il Presidente del Costituzione deve essere eletto direttamente ai cittadini a avere più poteri. Sì. Già qui non sono citati i militari, quindi... L'Europa deve fermare le attività delle ONG nel Mediterraneo perché incentivano gli sbarchi. Se tutti gli sforzi dedicati a armare l'Ucraina fossero stati destinati e negoziati, oggi saremmo più vicini a una pace giusta. Se Vannacci fosse sì, sì. Questa, vi svelo, questa è una frase testuale di un esponente non della Lega, che è stato Presidente del Consiglio. Quindi... Sesto. Esatto. Del Presidente Conte. Cinque. Dai, lo facciamo bello putiniano. Quattro. Quattro. Dipende cosa pensa o cosa dice. Forse dice quattro, pensa cinque. Dai, facciamo quattro. Siamo moderati. Il ponte sullo stretto è un'opera inutile, non va realizzato. Sapete che è molto cara a Salvini. L'Unione Europea e l'Euro sono essenziali per garantire il benessere economico del nostro Paese? No. È uno. Uno o due? Uno. Due. Facciamo due, facciamo due. Ci siamo quasi. È giusto che gli obiettivi ambientali per automobili e abitazioni siano stabiliti a livello europeo? Questo è facile. Uno. 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 A parità di condizioni un italiano dovrebbe avere la precedenza su un immigrato per la Casa Popolare. Il massimo è cinque, quindi. Un secondo mandato di Ursula von der Leyen. La Lega non è tanto su Ursula von der Leyen. Salvini si è espressamente pronunciato contro, quindi. Uno o due, direi. Uno. Che dite? E siamo alla penultima domanda. La dittatura del politicamente corretto non esiste. Si tratta solo di chiedere più rispetto per le minoranze. Uno. Il governo deve ridurre le differenze nei livelli di reddito anche alzando le tasse se serve. Ma la flat tax d'altronde... Facciamo un due, giusto per... Che dici? Sì, di nuovo teniamolo più moderato. Allora, stiamo per vedere il risultato. Vedremo i tre partiti più vicini. E i tre più lontani. Effettivamente Lega è il partito più vicino a questo profilo. Poi Fratelli d'Italia è il terzo partito più vicino, come vedete, Forza Italia. Non si può ingrandire per evitare di avere il 70% dello schermo con la pubblicità? Prenditela con Sky. Con Sky, esatto. La pubblicità rende possibile questo strumento, quindi grazie. Allora, quindi Vannacci uscirebbe come sovranista, quindi viene un po' spiegata la tribù politica a cui appartiene, i partiti più vicini sono quelli e i partiti più lontani sono Verdi, Sinistra, PD e Pace, Terra e Dignità, anche se su alcuni temi non sono forse così distanti. Insomma, questo è uno strumento. Se facciamo scarico ai risultati, vediamo che poi ci scarica questa piccola schedina che possiamo condividere che dice che c'è un appuntamento al Circo dei Lettori, ecco, che ci restituisce la nostra tribù. Questo è un test che al di là del gioco che abbiamo fatto insieme può essere utile forse per chi deve un po' decidere come votare, e ci dà un'idea dei partiti più vicini alle nostre sensibilità e più lontani ed è stato già centinaia di migliaia di persone lo hanno fatto in questi giorni.